Una valutazione sul lavoro che è stato fatto in questi ultimi anni e quali sono le vostre proposte di rottura, di diversità? Sì, intanto abbiamo combattuto il piano regolatore che la città sta approvando. L'abbiamo combattuto ferocemente perché prevedeva una quantità di costruito enorme, eravamo a oltre il 17%. Abbiamo fatto ribattaglie anche locali, per esempio nella zona dove abito a Rocca Sant'Angelo abbiamo costruito un comitato, abbiamo contestato la trasformazione di 6 ettari di terra agricoli in perfetta campagna e inedificabile. E abbiamo vinto la battaglia perché la provincia ci ha dato ragione, quindi come vede le nostre lotte portano a volte anche a dei risultati. Così come c'era un problema simile a Capodacqua, tra l'altro, che solo parzialmente però è stato ridimensionato. Ora bisogna puntare sulle cose invece importanti che fanno la storia e la conoscenza di Assisi. Innanzitutto la cultura e il turismo perché valorizzare i luoghi, i tanti luoghi, cioè Assisi è un patrimonio mondiale, ma questo patrimonio non è solo nella Basilica di San Francesco, è nell'insieme della città e nell'insieme della comunità. Per esempio ci sono tantissimi castelli da valorizzare nel comune di Assisi. Ci sono dei percorsi da costruire, di trekking, pensiamo anche a un'idea di ospitalità del pellegrino che invece non c'è. Un cammino come quello di Santiago di Campostella può essere fatto. Sono state oltre 16.000 ricevute fatte i pellegrini che sono venuti in questi anni di cui nessuno si è curato. Allora rilanciare questo tipo di turismo, ma rilanciare anche un turismo più ricco, perché oggi c'è un turismo mordi e fuggi che non si ferma da Assisi, di viaggi religiosi ma molto rapidi, molto veloci. Allora fare una serie di iniziative culturali e valorizzare al meglio le tante ricchezze della città è una condizione indispensabile che potrebbe aumentare enormemente il PIL della città e dare lavoro a moltissima gente. Ci sono partiti che stanno litigando, penso al PD, ma penso anche nel centro-destra, non ci sono ancora soluzioni e candidati fissi. Siamo un paio di persone, Francesco Mignani ed io, che siamo usciti relativamente presto, che poi dal mio punto di vista è anche tardi. Troviamo un vuoto in questo momento perché gli altri litigano, perché ci sono dietro degli interessi e ci sono non convergenze di idee.